Ola flamingo, ciao pericottere, bentornati in questo nuovo video. Qua chi è? Ahia, penso che mi conosciate già, Charlotte. E però avrei bisogno di un'altra persona di nome Ilaria, ma non so davvero dove... Dov'è? Eccomi! Purtroppo è arrivata. Vabbè, dettagli, ti voglio bene. Ok ragazzi, come avete già letto dal titolo, oggi l'ultimo, no, il primo che uscirà perderà i 100 euro, ovvero l'ultimo che uscirà vincerà i 100 euro che sono qui dentro. Ci sono ragazzi, si sente? Cioè non si sente, però ci sono. Quindi ora l'acqua è marmata, quindi non andremo dentro. Ma abbiamo i gommoni lì e noi saliremo sopra i gommoni, ovviamente senza cadere questa sarà la sfida. Ecco appunto, però è una cosa molto brutta perché il senza cadere per me non esiste. E quindi ragazzi, ora andiamo a scegliere un po' i gommoni che dovremo usare perché c'è questo qui che è gigante. E questo gelato che è mini, e quindi il fortunato chi sarà? Mela mela blu, esci fuori proprio tu. Quindi tu esci il gommone mio. Vieni l'aria, quindi tu sei pronta, questo sarà il nostro passatempo perché lei ha questa borsa, io non ho un'altra che è lì. Però ora te la dovrò passare perché tu hai il gommone gigante. Aiuto, ciao. Oh no, però mi puoi cadere di già. E poi già perdo. Vieni la borsa, non scappare. Oddio. Perché lei è quella grande e io no. Poi tanto, io voglio scambiarmi il gommone, eh. Facciamo 5 minuti per uno. Questa è la mia busta, quello è il mio gommone. E ora dovrò salire. Ok. È già entrata l'acqua, ecco, perfetto. Ti pareva, ti pareva che non entrasse l'acqua? E sono già tutta bagnata. Non sono anch'io. No, mi sto bagnando qui. Raga, io sono già tutta bagnata. Aiuto. Anche io un po'. Ah, bisogna prenderli? Sì. Aiuto, chiusa. Salviamo questo povero insetto. Bravo, vivo ora. Uno, quattro, tre. No, mi stai voglia di farci entrare. Uno, due, tre. Settantaquattro, ottantadue. Io ne ho sedici. Undici. No, vabbè. No, vabbè, è un corno. Undici. Undici, undici. Tieni. Ma fanno male sti codi, non mi prendere. A questo punto mi butto in piscina, cioè. Il nostro scopo è farla bagnare. Ci siamo. Dammi. Ok, ok. Sì. Sì. Ragazzi, il primo che cade perderà i 100 euro, appunto. Ok, ok. Ci siamo. Noi possiamo anche un pochino rilassarci. Rilassarci cosa? No, sali! E ora, per favore, cameraman, ci dai il cibo perché abbiamo fame entrambi. E siamo bambine, tanto a fame. Abbiamo fame, poche parole. Sì, tanta. Quindi, dacci ora il cibo, altrimenti mi fai arrabbiare e mi butto in piscina. E ti bagno anche te. Il cibo, no, ci stiamo mangiando. Abbiamo un bel piacino. Ora mi cade nell'acqua, sta a vedere. E niente. Pizza. E me la mangerai tutta. Mangerai tutto il gommone, l'acqua. L'acqua non si può mangiare, ma la mangerai lo stesso. Ok, assaggiamo tutto quanto. Buonissimo. Voto 10. Madonna, c'è, raga, ma qua ci si può stare anche fino a domani mattina. Ilaria, guarda, puoi uscire. No, se vuoi ti faccio anche strada se vuoi andare qui. No, no, vai. No, no. Io do la precedenza. Sono molto volentieri qua. Ti do la precedenza. I 100 euro, te li regalo lo stesso. Ma guarda lì c'è scritto Charlotte vieni qua. Vedi? Cioè. Io non vedo proprio nulla, io vedo un palo. No, io vedo Charlotte vieni qua. Ok, ragazzi. La location è un po' strana, strana. Strana. Devo dire, molto accogliente. Allora, ho il tuo bagnole di 100 euro qua. Money, 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 money. Ilaria, cara, anzi, cameraman, cara, ci puoi passare le nostre buste. Quindi lanciase lo camera, men. Ok. Oddio, la vedo già. Ok. Ilaria, hai tutto il gommone per te. Cioè, abbiamo un cuscino qui. Per dormo. Ora possiamo veramente. Ragazzi, fate uno screen e pubblicatelo su Instagram tangandomi e io vi metterò like. Perfetto, guardiamo un po' cosa abbiamo qui, tante scime, cose, proprio a posto per noi. E io direi di iniziare qualche scime. Uno squishy. Oh no. Guardate, è un uovo con una faccina dentro. Un uovo con una faccina dentro, ok, tutto normale. Oddio no, io vi giuro l'ho sempre amato. Vada, te lo regalo, in cambio, i 100 euro vanno a me. No, ne faccio a meno. È una richiesta magnifica questa. Bene ragazzi, provatelo anche voi. Uno, e due, e tre. Voi non l'avete visto. Ma è tipo rimbalzato. È andato nei gioiellini del cameraman. Ok, allora, qui abbiamo una rivista. Ah sì, questo l'ho anche pubblicato su Instagram, che è questo qui, il mio Instagram. E qua praticamente è questa rivista, dove io non sapevo niente di sta roba, ho tipo aperto, l'avevo presa e qua trovo la mia faccia. Vabbè, tutto normale fino a ora, io come faccio a farlo vedere non lo so. Tutto normale fino a ora ci sono io qui, con Baby K sopra, ma dettagli. E poi io continuo a girare le pagine e tadaaa. Qua ci sono io. E poi ci sono ancora io qui con i miei video. Qua 24 ore, 24 ore, esperimenti. Ok, tutto normale. E invece io ho questo, che è il mio diario. Se volete lo potete trovare sul sito di Ilaria.it. No, no, scherzo. Comunque c'è, raga, è bellissimo. Ed è tutto bianco così, però io l'ho decorato tutta a mano, ci ho fatto tutti i disegnini a mano così. Così. Qui abbiamo una Ilaria artista, eccellente. Voto 10. Camera man tieni, grazie. E cos'altro abbiamo qui? Ah, i bicchieri. Questi qui sono tipo dei bicchieri da mettere nell'acqua. C'è questo qui da mettere così. 3, 2, 1. No. Sprofonda. Allora, si gira, tipo. Fregatura. Ma, ma. Non serve a nulla. Fallato. Tanto ragazzi li riprendiamo perché noi teniamo all'ambiente e quindi riprendiamo tutto. Tranquilli, leviamo tutto. Qui abbiamo una scatolina con una rosa. Perché io sono tipo uscita da scuola e la sorella di un mio compagno di classe era una mia fan senza che io lo sapessi. Perché io ho tipo cambiato scuola. E ora sono in una classe molto simpatica e gentile. E mi hanno accolta per bene e sua sorella appunto mi segue. E sono uscita da scuola e mi ha regalato tipo questa scatolina con un braccialetto e un altro braccialetto qui. Bellissimi. Bellissimi, tipo dei portafortuna che sono fantastici. Quindi, grazie mille. E quindi è stato davvero molto gentile. E ho, 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 ha! No, 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 no. E la, e la, e la, e la. Se mi fai cadere. No, E la, no, 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 no. Io non ho stato toccato. No! No! Sì! Ho vinto, ho vinto! Ho vinto, ho vinto, ho vinto. Ho vinto! Ora li prendi te, ti butti nell'acqua, nuoti fino a qui, lo prendi, lo asciughi tutto con i tuoi capelli e poi... va bene ragazzi quindi qua c'è la sua bellissima scatoletta apriamola e guardiamo un po' contenta 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 questi li vedi questi sono bigliettoni da 100 euro contenta sei contenta ora 3 2 1 i miei amori vabbè comunque ragazzi iscrivetevi al canale youtube a charlotte in punto su instagram mi chiamo charlotte e charlotte tattino basso m tattino e quindi noi ci vediamo al prossimo video sperando che non sia con l'ilaria arrivederci ciao